Abbiamo deciso di andare in borsa perché era previsto nel nostro progetto ambizioso di creare una grandissima azienda attraverso la diffusione globale dei nostri prodotti. Ci dicono che negli ultimi 5 anni abbiamo lavorato bene e probabilmente è vero. Sicuramente abbiamo ottenuto risultati economici lusinghieri, ma soprattutto siamo riusciti a realizzare il modello di gestione di azienda che abbiamo sempre sognato. Ci sentiamo come agli ultimi scalini di una scala impervia che porta al primo piano di un palazzo con 100 piani. Senza ascensore. La borsa è una tappa, una qualificazione a un girone successivo, un pit stop da fare in 5 secondi e rimettersi in pista. Avrei che K diventasse la marca della nuova generazione digitale.